segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te tocci perché tra l'altro per la stampa di cui è editorialista ha scritto perché ci serve il gendarme usa il gendarme avrà insomma come dire si rafforza anche ha parlato di queste questo aumento di forze di impegno in italia perché ci serve ci serve in questo momento significa anche però che l'america è di nuovo pronta a impegnarsi perché abbiamo raccontato di un'america più isolazionista nell'ultimo negli ultimi tempi ma allora perché ci serve in realtà sarebbe bello se avessimo un gendarme europeo no però gendarme europeo purtroppo non c'è e quindi il punto è perché cambia perché deve cambiare inevitabilmente deve cambiare proprio la postura militare deve cambiare semplicemente perché per dirla alla olaf schultz stiamo attraversando una sighted bende quindi il cambio di un'era non viviamo più in un'era post guerra fredda in cui ci si poteva tra virgolette permettere di fare solo deterrenza e per deterrenza per dirla in numeri sostanzialmente parlavamo di ad oggi 40 mila truppe su alta allerta passiamo a una nuova era purtroppo non l'abbiamo scelta noi che è un'era non più appunto di post guerra fredda ma è un'era di guerra è un'era di guerra ci si deve preparare alla difesa chiaramente con l'augurio che poi non debba essere utilizzata ma sarebbe ovviamente estremamente irresponsabile in uno scenario del genere non essere pronti per un'eventuale invasione in territorio nato e quindi la difesa non si fa con 40 mila truppe in alta allerta se ricordiamo un po i numeri prima dell'inizio dell'invasione russa la russia va mobilitato oltre 200 mila truppe al confine con l'ucraina e quindi sostanzialmente è un adattamento inevitabile della nato a questo scenario quindi appunto si parla di queste 300 mila truppe perché gli americani allora mi viene da dire meno male che ci stanno loro in questo momento perché immaginiamoci una situazione del genere in cui gli americani se gli americani non fossero disposti a spendersi diciamo in questo modo saremmo in pericolo lo dobbiamo dire chiaramente perché gli americani si impegnano quando Draghi dice bisogna essere pronti cioè non è un'escalation dobbiamo essere pronti è questo che vuole dire. Certo bisogna nel senso chi può escludere oggi che che possa esserci diciamo uno spillover di questa guerra in territorio nato e che quindi ci sia appunto cioè che se esiste la possibilità e il rischio di un evento non causato dalla nato ma causato ovviamente dalla russia che faccia scattare il così noi l'articolo 5 quindi l'articolo sulla difesa collettiva inevitabilmente ci deve essere diciamo una nato che è pronta. Gli Stati Uniti se gli Stati Uniti e qua arriviamo anche al concetto strategico se vedessero questa guerra solo tra virgolette come una guerra europea probabilmente non si spenderebbero in questo modo e qua alla tua domanda sull'isolazionismo. Il motivo per cui gli Stati Uniti si stanno impegnando in questo modo è perché vedono questa guerra comunque collegata con il più ampio antagonismo e lì sì che invece si spendono con la Cina ovviamente. Quindi è questo diciamo l'assetto globale. Quindi per certi versi come dire questo aumenta la rischiosità perché chiaramente stiamo parlando di un mondo diciamo sempre più bipolare quindi sempre più spaccato per certi versi. Dall'altro canto tra virgolette perlomeno momentaneamente ci aiuta perché ripeto se non ci fossero gli americani noi non saremmo in grado di difenderci. Questo è il dramma. Questo non può che. Io mi auguro svegliarci e farci rendere conto che è benissimo. Adesso ci sono gli Stati Uniti ma tra due anni? Federico Rampini. Grazie. Grazie.